Sono a buon punto, questo è il dodicesimo giorno che ci stiamo allenando, condita da tanti amichevoli che stanno facendo i ragazzi, dove si stanno secondo me esprimendo anche abbastanza bene, infatti ieri abbiamo fatto una partita contro la ProSesto, una squadra di Inter regionale che punta a vincere il campionato e hanno vinto 1-0, ma a parte questo secondo me ha fatto anche una buona prestazione. Adesso domani c'è un'altra partita contro la Pergolettese, domenica un'altra con la Caronnese e da qui fino al 31 di agosto avremo allenamenti e soprattutto partite giocate contro squadre di Serie D e anche di Lega Pro. Cosa può dare Poloni a questi ragazzi e cosa possono dare i ragazzi a Poloni? Ma Poloni a questi ragazzi può dare tanto entusiasmo perché sicuramente quando giocavo mi ha contraddistinto l'entusiasmo nel giocare al calcio e da loro sto imparando parecchie cose perché sono in un periodo sicuramente non facile per loro, non avere squadra non è una cosa bellissima per un giocatore, però sicuramente se la stanno cavando egregiamente sicuramente Poloni da loro sta imparando tante cose.